stasera facciamo i pancake proteici con solo due ingredienti allora 100 grammi di albume d'uovo io uso questo le naturelle e lo verso nel contenitore scusate le unghie ma l'estetista in vacanza e 50 grammi di farina d'avena io ho usato questa come potete fare anzi se è integrale ancora meglio 50 grammi e un pizzico di lievito di pan dei angeli un pizzico veramente proprio un pizzico e mescoliamo una volta che abbiamo l'impasto facciamo riscaldare bene la padella mettiamo un filo d'olio e poi lo asciughiamo giusto per riscaldato bene una volta che si è riscaldato bene abbassiamo la fiamma e mettiamo il nostro impasto ragazzi sempre a fiamma bassa si iniziano a fare le bollicine facciamo così guardiamo un po e lo tiriamo pronto un po strobucciato però poi dopo lo sistemiamo ci mettiamo tutta la marmellata zero quindi non si vede niente i piedi l'ho preparato di sera adesso lo sto tagliando come una porta io l'ho preparato di sera perché avevo il mio fidanzato che mi riprendeva mentre facevo il video ma di solito lo preparo la mattina tanto ci vogliono tre secondi precisi e poi lo taglio al centro e ci metto questa marmellata solo frutta quella light che io ne fa due tipi quella normale quella light metto quella light metto un bel cucchiaio mannullata la faccia mi sono appena svegliata profetto che beatrice mia figlia ancora si deve svegliare che altrimenti dopo non riesco a registrare ci metto ci metto pure un po yogurt greco tipo ragazzi viene squisito è cosa devi sapere poi proteico perché alla fine non c'è zucchero però non si sente non si sente anche perché mettendo la marmellata comunque si addolcisce mi ci sono solo albumi e farina d'avena basta ed è buonissimo lo chiudo e vabbè io perché mi piaceva mettere un altro poco di marmellata voi fate come volete ma questa ragione la faccio da ormai da un anno però a volte faccio anche il tiramisù fit con i panchetti poi vi faccio il video grazie buona giornata è una cosa buonissima proteica dietetica perché senza zucchero senza niente solo con la farina di avena che a sua volta è pure proteica ed è buonissima ed è buonissimo e poi con un po' di cose del genere state bene tutta la mattinata adesso vi faccio anche un caffè buona giornata questo è benissimo ciao l'ho oh no しかibil Anика or o Grazie a tutti.